Ciao a tutti, come capire se una donna è interessata a te? Ci sono diversi segnali che possono farti capire se una donna è interessata a te, se una donna è coinvolta con te. Diversi segnali che tu puoi utilizzare per anche coinvolgere e far innamorare, diciamo, una donna. Soprattutto sono segnali non verbali. Quali sono i segnali principali che ti fanno capire che una donna è coinvolta, che una donna, insomma, da un certo punto di vista ti desidera, ti vuole? Beh, ne sono tanti. Allora, sicuramente accarezzarsi i capelli, l'accarezzamento in questo modo, in questo modo, o spostarsi i capelli in questo modo, sono segnali di interesse. Sono sicuramente forti segnali di interesse. Anche altri segnali, diciamo, sono interessanti. Spostare i capelli, ad esempio, scoprire il collo. Se tu scopri il collo, sicuramente il collo è una zona con una valenza, diciamo, erotica molto forte. È un segnale di interesse, anche questo, molto forte. Se quando una donna ti vede tende a scoprirsi il collo, beh, sicuramente è molto e molto attratta da te. Poi vi sono altri segnali, ad esempio, sciogliere i capelli. Ecco, i capelli sono se... oppure tutti i segnali di apertura, tipo scoprirsi un po' le braccia, alzarsi un pochino la gonna, non è che deve scosciarsi fino al coso, ma sono piccoli segnali di gradimento. E poi anche tutti i segnali che avvengono attorno alle labbra. Indicano, soprattutto se lei ti sta guardando, che è coinvolta. Umettarsi le labbra, mordicharsi le labbra. Qua devi prestare attenzione. Se il mordichamento avviene sul labbro inferiore, significa che è un gradimento di natura più affettiva. Se... e quindi cerca più una persona istituzionale. Se il mordichamento avviene sul labbro superiore, è più trasgressivo, e quindi va alla ricerca di un partner più trasgressivo. Ha bisogno di trasgressione, devi comportarti in modo più trasgressivo. Questo è un altro fatto importante da cogliere. Perché, come dicevamo prima, è importante rendersi conto se vale la pena comportarsi in modo istituzionale o trasgressivo. Poi vi sono altri segnali legati alle labbra. Ad esempio, le labbra tendono a gonfiarsi un pochettino quando la donna è coinvolta. Oltre alle labbra ci sono anche gli occhi. Diciamo che gli occhi, le pupille, tendono a dilatarsi per il coinvolgimento. È un segnale un po' difficile da cogliere perché, diciamo, deve effettuarsi a parità di luminosità. Come sappiamo, se la luminosità aumenta, le pupille tendono a contrarsi. Se la luminosità diminuisce, tendono a dilatarsi. Quindi anche questi sono dei segnali che dobbiamo tenere in considerazione. Poi, un altro indicatore di gradimento è il sorriso. Se ti sorride, è un segnale di interesse. Anche se ride alle cose che dici. Quando una donna ride e tu la fai ridere, magari non dici neanche cose tanto divertenti, ma lei si mette a ridere, significa che è coinvolta. C'è quel famoso detto, donna che ride, mutanda che cala. Spesso succede così. Questa è una manifestazione, diciamo, non verbale, molto, molto marcata, molto forte. Poi ci sono, diciamo, la tonalità della voce. Tieni presente che facendo, definendo una tonalità standard, se mentre ti parli il suo tono aumenta, tende a aumentare, significa che aumenta il coinvolgimento. Quindi la tonalità della voce è collegata al coinvolgimento. Quindi osserva, cioè osserva, ascolta, diciamo così, il suo tono di voce, perché è un segnale indicatore molto, molto importante. Altri segnali sono il contatto fisico. Se una donna tende a toccarti anche così involontariamente o, diciamo, senza, come dire, una motivazione particolare, beh, sicuramente è un coinvolgimento, un segnale di coinvolgimento molto forte. Anche se, diciamo, tende a guardarti. Soprattutto lo sguardo è importante coglierlo quando, è importante coglierlo quando non, diciamo, è importante cogliere lo sguardo quando tu non la stai guardando. Se una donna ti guarda quando tu non la stai guardando, è sicuramente molto, molto rilassata. Anche altri segnali sono l'esibizione del polso. Se una donna tende a esibirti il polso mentre parla, il polso è un'altra zona che indica che c'è un coinvolgimento, che è coinvolta. Come così se si massaggia l'orecchio? È un segnale affettivo. Se invece tende, diciamo, a fare gesti più penetrativi all'interno dell'orecchio, allora quello significa che è un segnale, diciamo, più erotico. E un'altra cosa, anche se tu, magari al ristorante, si può vedere, se tende a toccare dei tuoi oggetti e ad avvicinarli, diciamo, è un altro segnale di forte gradimento. Un altro segnale di gradimento è se cerca di sistemarti qualcosa, magari di toglierti l'inesistente pelucco sulla giacca, di sistemarti la cravatta. Significa che è coinvolta comunque con te e diciamo... e dà dei segnali molto, molto, molto forti. Quindi questi sono tutti segnali, indicatori di interesse che fanno capire che lei è di fatto coinvolta, che lei è di fatto una donna che vorrebbe, diciamo, in qualche modo fare o comunque perlomeno conoscerti meglio. Questi sono tutti segnali veramente utili, veramente importanti. Se impari ad osservarli, capirai quando il semaforo è verde e quando il semaforo è rosso. Bene, per questo video è tutto. Seguimi sulla pagina Instagram Massimo Termasco, iscriviti al canale e iscrivendoti al canale attiva la campanella così riceverai la notifica dei nuovi video. Inoltre ti ricordo che sul canale ti puoi abbonare e abbonando ti potrai ricevere delle risposte precise e mirate alle tue domande. Ciao a tutti!